...di gioia il cuore, oh mio signore, la sua vita fiorirà... ...lei ha bisogno, lei ha bisogno, lei ha bisogno di te... Ciao Buffet, ciao Nerone, ciao Bella! ...di gioia, lei ha bisogno, lei ha bisogno di te... ...ci colleghiamo ora con la Fraternità, la visitazione della città di Verona, Regione Veneto... ...per trasmettervi il Santo Rosario, le lodi e la Santa Messa... ...un ascolto, viene comunione di preghiera... ...di gioia! ...di gioia! ...di gioia! ...di gioia! ...di gioia! ...di gioia! ...la bestita di sole... ...reatsante di sole... ...dari la seri tu... ...da una bestita di sole... E' un'altra del cielo, e' un'altra del mar. E' un'altra del cielo, e' un certo che finisce con me. E' un'altra del cielo, e' un'altra del cielo, e' un'altra del cielo. E' un'altra del cielo, e' un'altra del cielo, e' un'altra del cielo. E' un'altra del cielo, e' un'altra del cielo, e' un'altra del cielo. E' un'altra del cielo, e' un'altra del cielo. E' un'altra del cielo, e' un'altra del cielo. E' un'altra del cielo, e' un'altra del cielo, e' un'altra del cielo. E' un'altra del cielo, e' un'altra del cielo, e' un'altra del cielo. 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 Sintonizzati sulle linee di Radio Maria, iniziamo questo momento di preghiera con la recita del Santo Rosario meditando i misteri del dolore. Seguiranno le lodi che sono del venerdì della terza settimana del Salterio e la Santa Messa. Le preghiere di canti saranno animati dal coro della Fraternità. Presiede la liturgia padre Luis Perez, superiore della comunità dei Redentoristi e rettore del Santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso in Bussolengo Verona. Buon ascolto e buona preghiera in comunione di fede e di grazia. in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. A chiusa di寄Jacka. Grazie a tutti. Regina della pace, nel primo mistero doloroso contempliamo l'agonia di Gesù negli azemani. Gesù disse loro, la mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate. Poi, andato un po' innanzi, si gettò a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse da lui quell'ora e diceva, Abba Padre, tutto è possibile a te, allontana da me questo calice, però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dasci oggi il nostro pane quotidiano e ripetiamo i nostri debiti, come a noi ripetiamo i nostri debitori, in ero cittura e tentazione, ma liberaci al mare e al mare. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è contento, sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, la madre di Dio, prega per noi pecatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è contento, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, la madre di Dio, prega per noi pecatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è contento, sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, la madre di Dio, prega per noi pecatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è contento, sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, la madre di Dio, prega per noi pecatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è contento, sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, la madre di Dio, prega per noi pecatori, adesso è l'ora della nostra morte.